I carabinieri della stazione di Capaccio Scalo hanno svolto un sopralluogo su un'azienda bufalina unitamente a personale del UO SD veterinaria del distretto sanitario di Capaccio Pestum. Al fine di verificare le condizioni igienico-sanitarie e di tenuta degli animali, sul posto venivano riscontrate molteplici difformità, filo spinato e mancanza di tettoie nelle aree dedicate alle bufale da latte, mancato smaltimento dei reflui prodotti dagli animali, carenza di requisiti igienici-sanitari relativi all'intera azienda bufalina. È stata disposta la sospensione dell'azienda. I capi di bestiame saranno trasferiti all'esito della profilassi di Stato, cui sono stati sottoposti. Il titolare, invece, è stato deferito in stato di libertà per maltrattamento di animali.